Alla polizia aveva riferito di essere uscito di casa per farsi una bevuta con gli amici, a quel bar che si trova a 40 metri di distanza dalla sua abitazione, pur essendo ristretto, in detenzione domiciliare. Oggi per un 35enne romeno, Cipile su iniziali, arrivata la condanna a 8 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, celebrato con rito abbreviato, scelto la sua legale Stefano Michelangelo. Il giovane era stato multato e arrestato nelle scorse settimane dalla polizia. La sera del 28 dicembre scorso, la squadra volante del commissariato Repubblica Sicurezza si era infatti recata presso il domicilio del giovane al fine di verificare rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Non avendo ricevuto risposta al citofono, gli operatori di polizia hanno immediatamente chiamato al cellulare l'uomo, il quale, con assoluta nuscialanz, ha riferito di essere al bar a bere con gli amici, immediatamente rintracciato e stato arrestato per evasione. L'uomo era stato posto in direzione domiciliare lo scorso novembre per aver riportato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per oltraggio all'esistenza pubblico ufficiale nonché per rifiuto di fornire le proprie generalità. E' scattata anche la multa da 400 euro per la violazione della normativa anti-covid. Oggi è proseguito il processo per direttissima, dopo i termini a difesa concessi dal giudice Marta Sarnelli. La procura aveva chiesto un anno e otto mesi di reclusione, mentre la condanna è stata di soli otto mesi, considerando la riduzione della pena per la scelta del rito. In sostanza, l'avvocato difensore Michelangelo ha fatto notare al giudice la distanza erisoria del bar rispetto all'abitazione del 35enne, ovvero appena 40 metri, come pure la tesi difensiva, se basara sul discernimento tra la situazione della necessità e la supponenza rispetto alla prescrizione. Il giovane torna quindi in detenzione domiciliare, salvo altri provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, alla luce dell'odierna condanna.